marino che cosa succede quando la comunicazione comincia a diventare complessa quando comincia a diventare complessa ovviamente come dire c'è bisogno di qualcuno che ti aiuti a dirimerla e a trovare come dire giusti canali su cui convogliarla e ti aiuti a comprendermi la complessità è quello che accade voglio dire in qualunque situazione e voglio dire qualunque piccolo imprenditore ha bisogno piccolo grande ha bisogno comunque di un aiuto su materie specifiche pensiamo commercialista fiscalista a quella sicurezza sul lavoro insomma e all'interno della nostra struttura per esempio è possibile trovare sono tutte tutti i servizi che sono nel vostro certo però è importante trovarle queste figure sapere dove sono questo sicuramente alla base ci deve essere però una presa di coscienza da parte sia l'imprenditore al manager insomma smettiamo di fare le differenze di chi deve di chi deve dire insomma di chi deve comunicare ci deve essere la presa di coscienza dell'importanza della comunicazione intesa come modo per creare una comunità sia all'interno che all'esterno per trovare nuovi clienti per sviluppare i propri prodotti servizi se non c'è questa presa di coscienza e quindi questo questo lavoro che era fatto prima e che normalmente nei momenti di crisi come tante altre cose emerge con forza tutti quelli che non lo sapevano usare ma io stesso abbiamo dovuto imparare ad usare una serie di nuove tecnologie che magari prima non utilizzavamo perché se non avessimo imparato ad usarle a padroneggiarle come dire anche quello che restava del nostro business si sarebbe in qualche modo distrutto e disfatto quindi è la stessa cosa voglio dire per la comunicazione però ci deve essere la presa di consapevolezza che quella cosa serve perché se non c'è questa presa di consapevolezza si finisce come dire vittima dei tanti e dei troppi che si presentano alle aziende giusto per scusate mungere la vacca ecco insomma abbiamo appena parlato con marino pessina io ipso esperto in comunicazione di crisi e comunicazione strategica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti